benvenuti a questo nuovissimo video sono qui con david basciotti per la prima volta il boss della stardust beccati sta qui raga facciotti sta tornando a roma e abbiamo preparato una sorpresa che faremo tra una settimana a danny la dico io la dico te la dico io la dico te la dico io o la dici te la dici allora tra una settimana raga visto che ormai ci sono le feste andiamo tutti a casa e loro tornano a roma tra una settimana io faccio una sorpresa a danny mi sono messo d'accordo con pace vado giù a roma e passerò qualche giorno là con loro quindi raga preparatevi perché vedete una roba assurda no raga se ne sta per andare sta per lasciare la stardust a pace va in macchina pace se ne va in macchina roma e danny prende un mezzo più potente non scherzo arriverò prima di pace a bro immagini bro buon viaggio bro io mi dissocio da quello che state vedendo prendo le distanze no se ne stanno andando raga ti stanno abbandonando ciao amore mio faccio atti ragazzi un single life check ciao amori miei buon viaggio in skateboard danny bro dai rimbiamo stiamo tutti se la draga e voi festeggiate quando io me ne vado non lo so ma io sono stato qua perché da tutti e voi festeggiate quando io me ne vado non lo so ma ti pare bro ma ti pare fan culo a tutti sei un telemerda fan culo eccomi qua ragazzi è passata la vigilia è passato il natale è passato santo stefano tocca andare giù a roma ho preparato il mio borsone del calcio credo mi basterà quello perché tanto passano uno massimo massimo un proprio massimo due giorni giù a roma quindi non mi serviranno tante cose madonna sto per morire prima di arrivare a roma adesso raga mi dirico alla stazione mi dirico alla stazione ci vediamo dopo o a roma raga io sono appena arrivato qua in questa stanza dove mi farò trovare da danny faccio così perché raga è una stanza un po' strana tipo guardate non so che paciotti mi ha portato ma vabbè ci vediamo tra 5 minuti magari ti ho fatto una sorpresa assurda non so perché mi hai portato qua sotto eh bro vieni con me fidati va bene qua si bro qua fidati stai tranquillo bro è una porta stai tranquillo bro mi hai portato non lo so nella mia cantina eh bro tu apri la porta ahahahah ma perché bro te ma perché bro te ma perché bro te mi senti quando sei giù da poco parlando stamattina bro bro ma che cazzo hai fatto Siamo dei matti Eccomi qua raga Sono tornato a casa E' nulla raga possiamo finire qua il video Ah no Non possiamo finire il video Senza prima fare il Pro time Tocca fare il pro time pure a casa nostra Aspettatemi ragazzi Ragazzi ci metto due ore per scendere Sono preso pure una storta Nel commenti raga 3 2 1 1 3 2 2 3 Facilissimo ragazzi E' stato così cazzo facile E' nulla raga Se vi è piaciuto questo video lasciate like Commentate ma soprattutto iscrivetevi Seguitemi su instagram se ancora non lo fate Davide.cutro E' nulla raga Alla prossima Bella raga